Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 in direzione Roma un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Badia, rallentamenti tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì in direzione Mare tre chilometri di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Ci sono poi rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. In direzione Firenze ci sono poi code per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Corsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Corsi Toscana